Ah, no, cosa? Bene, vai, ci diamo al posto Ehi, c'è un pulsante sotto, vai a premere un pulsante Oh mio addio delle scane Oh, porco Swag Sto catturando tutti i Pokémon, non è vero, niente Geppetta Usiamo Swag, diceva Pauk Vai, Beccandi E now Beccandi muore Ma non può avere quelle mosse, non le impara I don't care I don't care I don't care Monitor Eh, ma sto da diraggio, l'ha diseccata la traduzione, dai Eh, mica fa come Eh, Huxponge che Ha scritto che Preveggenza era malosguardo, malosguardo preveggenza Bello Già, c'è da dire che questo sprite però l'ha inserito decentemente Sì, ma forse perché riguarda No, ma non c'entra niente, c'è il resource Beh, c'è spirito, invece Ma c'è anche il resource per quello di Di quinta su poche, poche community Dunno E anche quello di sesta, non completo Perché manca qualche Pokémon, però Secondo me questo è il rifugio di Malna No Ho trovato verba nera Che ti malna Razzista In verità sono degli occhiali neri Cosa? Non direi che ha tradotto Glass con Glass Sì Ho trovato un Ethereum Max Sì Ho trovato MT49 rubare Ha tradotto furto Corrubare Oh no, ho perso E una spettro sonda Ma guarda un po' Chiave ascensore Chiave ascensore Oh, ma posso usare l'ascensore ora Hai capito? Plot twist ProSniper XX B4F Ok Ma che cazzo Che spreco di superpozioni Ciao Mi chiamo Erika Io sono la K-Palestra di Azzurropoli Io e gli altri K-Palestra Siamo rimasti di guardia nelle città I miei Pokémon mi difenderanno Oh, mi dispiace Ma non riuscirei a battermi Ne Ne tu Ne tu e nessuno spettro E ne nessuno spettro Chiedovenia Genesec Porca putta No, Maria, me ne vado L'uno non mi ricordo Che forte Adesso non cambiato Per questa medaglia potrei usare la mossa a forza anche fuori dalla lotta Sono sicuro che riuscirà ad aiutare questa regione E c'è Ma no, perché a me Ok Continua Giga Assorb È una mossa molto forte Usa la con cura La vandosca sempre più vicina Ok È lì dentro Non riusciamo a fermarlo Chi? Madonna E' un po' proprio mega ganger Va bene Guarda Giusto per te Peccati deve avere la sua vendetta E' un po' E' un po' Sandine il rosso Comunista Guarda por Guarda la forza di por Salamence Palle Succa E' colpo critico E' il potere Milotico Ah, ok Succa lancia fiamme No Quella Che come ben sappiamo è la risposta a tutte le domande dell'universo Succa dramma Oh, sei aperto Adesso Adesso Sei state Sei state E' uno e due Ah Cosa? Professor O Quella ci fai qui? Cosa? Quella ci fai qui? Ah, come hai fatto a saperlo? Giusto Era ovvio Prof Voglio delle spiegazioni a subito Non credere a tutto quello che dicono le medium Io sono della parte dei buoni Cioè davvero così? Perché non vuoi creare Questo super pokemon Adesso basta Ma quale super pokemon? E poi tipo c'è No, sono da parte dei buoni Anzi no, aspetta Wow Ma non poterà mettergli la pokemon in mano? No Wow Pensi di fermarmi con una merda del genere? Dio porco Ah Ok Maledizio Oh mio Cioè non è che gli senti le mosse Iperpuzioni No Ha usato Iperpuzioni Such bastardo Lancia Abbiamo Ai 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 Ok Maggia ehi ma perché la maldizione perché la maldizione uso di una cosa e era originale questo quanto mi ha tolto oh no non ho lancia fiamme tranquillo ciao questo può essere ho confesso tu e daun sia solo degli esperimenti ho bisogno del vostro aiuto per conquistare canto mai a presto me chiamo le slot machine no non voglio che mi si glitch il gioco save state giusto funziona sempre e no it's time to andare all'avvento nonostante per se io.